Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il ventitresimo episodio della mia serie survival di Minecraft. Ragazzacce miei, che cosa andremo a fare in questo episodio? Allora, innanzitutto, nello scorso episodio abbiamo fatto la farm di grano, che sta già crescendo, quindi non ce la mentiamo, aspettiamo che cresca bene tutto e poi, cioè che poi cresce a zone. Questo è praticamente quasi già cresciuto del tutto, questo deve ancora pensare di iniziare a crescere. Però dai ragazzi, va bene, nel senso, con calma avremo il nostro grano, appunto possiamo sempre allungarla, sta farm, sì, tranquilli. Ora, in questo episodio, quello che volevo fare io era una farm di pesca. Perché? Perché effettivamente in 20 episodi ancora non ci siamo fatti una canna da pesca. Ci serve pescare i pesci? No. Ci serve pescare altro? No. Ci può servire la canna da pesca e fare una farm di pesca per i libri incantati? Sì, perché no? Non ci fa schifo. Poi sì, dai, ci può stare, almeno in questo episodio, cioè non dovrebbe essere così difficile fare una farm di pesca, sperando che poi funzioni, perché io fò sempre caro a fare queste cose. Però ecco, oltre a questo potremmo fare anche una farm di pecore. Cioè, più che farm, diciamo un recinto con le pecore, lo mettiamo, non so, giù di qua, anche qui, boh, da qualche parte, o lì accanto alle mucche, o lì, boh. Però facciamo, insomma, un recintino con le pecore, le andremo a prendere, le portiamo qua, perché poi in futuro ci serviranno anche quelle. Ci serviranno per fare la farm di pecore colorate, per fare tutte queste cose qua, insomma, lana, eccetera. E proprio per questo abbiamo fatto, cioè, abbiamo fatto la farm di grano apposta, per poter nutrire tutte le nostre mucche e le pecore, quindi ci sta a fare anche questo. Anche perché, appunto, la farm di pesca non dovrebbe richiedermi troppo tempo. Portare le pecore qua, spero, non dovrebbe richiedermi troppo tempo, quindi, cioè, se mi sbrigo e se non continuo a chiacchierare a caso, dovrei riuscire a fare due cose in questo episodio. Due piccioni con la fava, ovviamente, sono io. Allora, innanzitutto io direi di andare a farci una canna da pesca. Sta per tramontare il sole? No, bene, quindi abbiamo tempo, perché lo sapete, appena tramonta il sole io corro a casa, proprio fuggo da questo mondo e vado verso casa a dormire. Però, a parte questa farm di pesca, la sto copiando, perché io so fare solo questo, la sto copiando da Lollo Lacustre, il grandissimo Lollo. Ho visto un TikTok che mi ha fatto molto ridere suo e quindi, com'è che si faceva proprio la canna da pesca? Forse così? No. Ah, c'è qua il crafting. Ah, basta, basta saperlo. Bene, abbiamo fatto la canna da pesca. Vediamo anche se c'è qualche incantamento buono per questa canna da pesca. Comunque vi dicevo, questa farm... Ah, tra l'altro fatemi sapere anche se funziona il forno fusorio, se funziona solo con la lava o con altre cose, perché non lo... Dicevo, questa farm di pesca l'ho presa da il buon Lollo e lui, tipo, la fa, in questo TikTok, la fa in meno di 10 secondi. Volete scommettere? Noi ci metteremo più di 10 minuti? State a vedere. Indistruttibilità 3. Ma, allora, vi dico la verità. Può servirci, ma neanche tanto. Cioè, tipo, il libro cosa ci dà? Se ci dà Fortuna del Mare siamo a cavallo. Fortuna del Mare 2. Da sto punto, io metto Indistruttibilità 3 sulla canna, sperando che mi dia anche qualcos'altro. E mi ha dato solo Indistruttibilità 3, bastardo. Ora mi dà infinità. Ma ragazzi, cioè, di preciso, cosa stiamo aspettando a prenderci il libro con infinità? Cioè, ah no, ok, no, niente, l'avevo un attimino frainteso, ma è comunque buonissimo. Per un attimo ho pensato che infinità fosse Mending, invece no. Mending è ripristino, mi sa. Comunque, infinità, cioè, raga, dobbiamo metterlo su quest'arco, assolutamente. O lo mettiamo... sì, no, dobbiamo farlo assolutamente. Quest'arco anche Indistruttibilità non ce l'ha. Però c'ha Potenza e Fiamma, cioè, Potenza 4 e Fiamma, ragazzi. Ma come si... dove si ritrova un arco del genere? Cioè, eh, non lo so, c'ha da pensarci un pochino. Poi ecco, non mi ricordo se Mending si può trovare anche qua, casualmente, con molta fortuna. Potenza 1, Indistruttibilità 1, Efficienza 4. Non mi ricordo se si può trovare anche qua, nel tavolo degli incantamenti, Mending, o se servono per forza i villaggeri. In ogni caso, abbiamo un ottimo libro incantato, e adesso porteremo nel nostro magazzino. E se vogliamo fare tutto quello che dobbiamo fare, direi che è il caso anche di muoverci. Sì, no, raga, dobbiamo mettere infinità sull'arco, non c'è verso. Bisogna... ci serve infinità, quindi se io faccio così... no, così... Così va bene. Ci costa 4, ma abbiamo un arco con infinità. Cioè, tanta roba. Se io faccio così... Ok, però costa 10, è minghie. 10 è tantino, eh. Allora, facciamo e per adesso ce ne teniamo 2. E poi decideremo con calma cosa farne. Comunque, intanto, la canna da pesca ce l'abbiamo. Adesso prendiamo i materiali che ci servono per andare a fare, appunto, la nostra fata. Perché, insomma, dopo tutto sto tempo sarà anche il caso di muoverci. Allora, prendiamo il ferro che avevamo lasciato qua. Poi, allora, ci servono 3 ceste, perché 2 ci servono, insomma, a noi. Allora, 3, ok, 24 dovrebbero bastare. 2 ci servono a noi e altre... cioè, un'altra ci serve per fare un hopper. Quindi, allora, una la mettiamo qua e poi ci facciamo il nostro hopper. Perfetto. Quindi, c'è 2 ceste, un hopper. Una trapdoor di ferro. Perfetto. Raga, ma sono stupido. Ho visto adesso che ho già 3 hopper qua. Mamma mia, bene, la prossima volta usiamo questi. Ah, no, ma forse questi qua ci servono per la farm di scheletri, sì. Sì, ok, conserviamo. Prima o poi faremo anche quella, eh, raga, promesso. Poi ci serve una pedana a pressione, che poi non so se deve essere per forza in ferro oppure no. Io, per sicurezza, la fò in ferro. Per non sbagliare. Seguiamo tutto perfettamente. Poi, il buon lol mette un blocco qualsiasi. Io metterò questo. Poi, una fence, ma io ne farei delle altre. Perché poi, sì, poi dovremo andare a fare anche il recinto per le pecore. Quindi mi farei direttamente tutte le fence e un cancellino, magari. Top. Così. Perfetto. Poi, un secchio d'acqua, ma ci basta prendere un secchio e riempirlo in un secondo momento. E poi ci serve un jukebox che, credo, sì, cioè non un jukebox, no, è un blocco musicale, in realtà. Il jukebox dovrebbe essere quell'altro, boh, non mi ricordo. Comunque sia, si dovrebbe fare così, blocco sonoro. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo. Ora cerchiamo un posto dove fare... Uh, mamma mia, che brutta cosa, è notte. Che brutta cosa, scappiamo subito. Qui i mob veramente non ci vogliono dare pace, accidenti a loro. Comunque, io pensavo di farla anche in un angolino tipo questo. Tanto non prende tanto spazio la farma di pesca. Ci sta a fare un angolino qui, appunto, solo per la farma di pesca. Se non è proprio un posto bellino. Allora, dovrebbe essere una roba lunga cinque blocchi. Quindi, anche se, tipo, la finiamo qua, uno, due, tre, quattro e cinque. La possiamo cominciare anche qua. Però, forse ci sta anche farlo. No, va bene, dai, va bene. Uno, due, tre, quattro e cinque a questo qua. Però dobbiamo scavare solo quattro blocchi. Bisogna mettere due ceste così. Poi qua, un hopper, giusto? Sì, credo. Bisogna andare a prendere dell'acqua. La prenderemo qua vicino per comodità, invece che andare fino alla fonte d'acqua infinita. La prenderemo qua. Però, ecco, ci serve un secchio di A. Bisogna mettere una fence qua sopra e poi dell'acqua qui, giusto? Poi, pedana a pressione qua sopra, blocco sonoro qua. Poi, lui dice un blocco qualsiasi e mette un tronco di quercia. Cioè, io metterò un blocco di, ah no, un blocco di quercia qua normale, un blocco di assi, insomma, così. Perché tanto ho detto un blocco qualsiasi, quindi uso questo. Cioè, avevo solo questo qua. Lo usi. Anche se in realtà questo potrei metterlo nel muro degli avanzi, però. Perché ci ha avanzato da non si sa quando. Ma sì, ragazzi, questo lo metto nel muro degli avanzi. Cioè, alla fine quel muro degli avanzi era una cosa per metterci, cioè, la roba che ci avanzava, come dice il nome. Ora è diventata una scusa per craftare roba in più da mettere lì. Boh, raga, se posso metto un blocco di luminite, almeno, cioè, fa anche luce. Penso vada bene lo stesso. Boh, io provo a metterlo, se poi non va bene, si cambia. Quindi, blocco di luminite e trapdoor di ferro qua. Perfetto. Ora, a detta sua, dovrebbe funzionare, tipo, stando qua e tenendo premuto la... Cioè, no, però c'è qualcosa che non va. Non dovrebbe attivare la tra... Ah, no, sì, forse sì. Non so se funziona, effettivamente. Non lo so. Proviamo, stiamo un po' qua col tasto destro e... Diciamo che non mi sembra di aver raccolto molto. In compenso, ho perso i pezzi dell'armatura. Boh, raga, io qua ci sto provando, ma non mi pare di ottenere grossi risultati. Boh, ora sto provando a pescare un po' qua, nell'acqua, e la canna da pesca funziona. Sì, guardate. Funzionare funziona. Però perché allora non funziona nell'affare? Boh, ragazzo, io vorrei capire quanto ancora devo stare qua. Poi ora sta facendo notte, sì che è anche rischioso. Cioè, io me ne tornerei, anzi, verso casa. Abbiamo preso qualcosa? No, assolutamente niente. Che paura. Ah, raga, aspettate, ma io ci ho pensato adesso. Effettivamente, la nostra roba, noi non ce l'abbiamo nell'inventario. Perché? Perché abbiamo messo apposta l'oper con la cesta. Quindi, magari potrebbe essere lì. Vediamo ora nella cesta se c'è qualcosa. Se c'è qualcosa, proprio un fail non l'abbiamo fatto. Siete pronti? 3, 2, 1... 2 pesci. Vediamo quanto ci mettono ad aumentare le cose. Quindi, diciamo, è meglio starci un po' a FK. Perché, se no, cioè, guardate, è già un po' che sono così. E siamo sempre a 2. Quindi, non lo so. Non lo so, ragazzi. Sinceramente, boh, forse c'è qualcosa che non va. Oppure deve essere così. Proviamo per adesso a lasciarla così. Vediamo, e male male, poi, se ho sbagliato qualcosa, me lo scriverete nei prossimi commenti, quando caricherò questo video. In futuro, perché, cioè, ora tipo sto registrando questo ventitresimo episodio, ma per adesso è uscito solo fino al 19. Quindi, con calma, poi, quando uscirà questo episodio, mi scriverete. Io, poi, se mai, se ho sbagliato qualcosa, sistemerò più avanti. Ora, mi piacerebbe metterci anche dei blocchi bellini qua. Vorrei fare il calcestruzzo, no, il calcestruzzo, come si chiama? Sì, forse è quello lì, però non mi ricordo come si chiama. Ok, allora ho visto che per fare il calcestruzzo che vogliamo fare noi, ci serve il colorante azzurro. Perché io lo voglio fare azzurro, però il colorante azzurro, al momento, non lo abbiamo. E non saprei nemmeno dove andare a prenderlo, perché non mi sembra che di là ci siano grossi fiori azzurri. O forse sì. No? Sì? Questo è azzurro? O blu? Che colorante mi dà questo? Perché forse ce la facciamo a farlo anche ora. Però vorrei trovarne molti di più di questi fiori, per avere più coloranti, diciamo. No, questo mi dà il colorante blu. Forse, mischiandolo alla farina d'ossa, potrei farlo anche azzurro. Forse sì. Ora proviamo. In ogni caso ce ne servirebbero diversi di questi fiori blu. Vabbè, noi proviamo e poi si vedrà. Ora, se io faccio così, facciamo la prova. No. Come faccio allora a fare il colorante azzurro? Ah, ok, prima devo fare il colorante bianco. Ora però così faccio il colorante azzurro, giusto? Perfetto. E ce l'abbiamo e ne abbiamo due. Quindi possiamo fare... Cioè, se tipo... Ah no, prima ci serve il colorante bianco. Stupido sono. Così. Se facciamo così, quanti ne riusciamo a fare? 18. Buono, 18 non sarebbe male. Adesso, se non sbaglio, dobbiamo fare una roba così, per fare il calcestruzzo. Giusto? Perfetto. E ne abbiamo 8. Tanta roba. Allora forse ci basta solo farne un altro. O altri due. Facciamo altri due. Anche così, mettendo la sabbia sotto e la ghiaia sopra. Perfetto. Facciamo così, ne abbiamo 24. Ora li dovremmo cuocere. No, cuocendoli mi sa che... Cioè, se io tipo lo cuocio, ottengo quell'altro. Ma, cioè, non... Non è... Non si faceva così? Fatemi fare tipo una... No, però, oddio, ho paura. Ma no, vabbè, bisogna metterci il secchio d'acqua sopra. Io l'ho capito adesso. Cioè, perché sono andato a vedere sulla wiki, perché se no non ci arrivavo. Ora capisco. Bene, allora prendiamo un secchio d'acqua e poi andiamo e mettiamo i blocchi come li voglio mettere. Ora vedrò un pochino, perché in realtà ancora non lo so bene. Mi sa che per adesso farò solo una roba così, tipo, li metterò un po' intorno. Magari, cioè, tipo, se fa così, mi diventa... No, vabbè, mi diventa subito il blocco che voglio io. Cioè, basta fare così? Non ci credo. Perfetto, allora. Però, perché non si leva più? Levati. Leviamo momentaneamente l'acqua da qua, che sembra ci sta dando dei problemi. Facciamo così. Un altro po' di blocchi magari li leviamo anche qua, tipo... Un po' così. A caso un po', sì, da un po' a caso. Anche di qua magari un po' a caso, tipo così, per dire. Spero di averne fatti abbastanza. Ecco, vedete, è tipo una roba così. Ora mettiamo l'acqua qua sopra per farli diventare tutti a questa maniera. Perfetto. Vai, già così è bellino. Anche qua sotto? Ma sì, mettiamola anche qua sotto. Tanto poi quando rimetteremo l'acqua qua, vedrete anche quello diventerà perfetto. Così. E poi dove potremmo metterli? In realtà ne abbiamo altri cinque. Io forse uno lo metterei qua per fare un po' più... Sì, dai, facciamo... Mettiamolo qua, così. E direi che torniamo a dormire perché qua è pericoloso. Cosa ci facevi tra le mie carote? Sparisci da qua. Potrei metterne degli altri così a caso, tipo uno qua, uno qui magari e un altro qua. Perché? Così, dai, e questa è la nostra zona di pesca. Io per adesso lo faccio così, tanto per avere un po' questo colore qua azzurro. E io, ragazzi, c'è questi blocchi qua. Questo blocco qua di calcio e struzzo lo adoro. Cioè, fidatevi veramente, lo adoro. Ah, ne abbiamo anche un altro. Ecco, infatti ci stavo pensando. Questo dove lo possiamo mettere? Lo potremmo mettere anche qui. Dai, ci sta, ci può stare. Io, appunto, come vi dicevo, adoro questi blocchi di calcio e struzzo, li voglio usare molto più spesso. Indovinate che fine farà questo? Esattamente. Nel muro degli avanzi. Vedete come è più bellino pescare in questo ambiente tutto blu? Poi lo so, fa un po' cagare. Però poi magari quando... Cioè, se mi vengono in mente altre idee, le farò, magari, o ci farò una casetta o qualcosa del genere, non lo so. Però ecco, già avere questo colorino blu mi piace. Ci vogliono i secoli, eh, per pescare qua. Ma no, ok, ora che ci penso è proprio bruttina questa cosa qua. La miglioreremo, dai, la miglioreremo. Intanto la lasciamo così, però poi la miglioreremo. Basta avere un po' di questo colore azzurro per rendere un po' l'idea. No, ma ci vogliono più blocchi, ragazzi. No, non c'è verso, ce ne vogliono molti. E facciamolo subito, perché per adesso, insomma, è abbastanza, non dico, inguardabile, perché non voglio essere cattivo. Però non è nemmeno un bello spettacolo. Facciamone 24. Poi se ci avanzano, stiamo sempre in tempo a usarli in un altro modo, a conservarli, a metterli in un'altra parte. Però intanto, ecco, facciamoli che è meglio, secondo me. E magari li mettiamo qua così, in modo da circondare, diciamo. Qua facciamo così. Qui leviamo e facciamo così. Poi magari alziamo tutto di due. In che senso? Cioè, che li mettiamo così. Questo lo possiamo anche levare, già, che c'è tanto, insomma, qua. Tipo così, no? Poi, ecco, siamo sempre in tempo a migliorarlo, ma già se è così, fa un effetto diverso. Ora proviamo a metterci anche l'acqua sopra e vediamo come... Potrebbe fare una roba tipo uno qua, un altro qua. E poi, ecco, sì, così, come è di là. Una roba del genere. Oddio. Non lo so, però dai. No, non tanto, però. Meglio che come era prima. Almeno così un senso ce l'ha, diciamo. Anche qua, ecco. Perfetto, così, dai. Va già bene. Potremmo mettere un altro blocco. Lo mettiamo qua... Anzi, no, mettiamolo qua su, scusate. Si mette qui. Almeno domina qua sopra. Beh, bella cag... No, dai, è bellino. Già avere questo colore è un sacco bellino. Mi piace un sacco, quindi sì. Per adesso va bene così. Possiamo rimettere l'acqua qua e riprenderci la nostra. Dai, ragazzi, va bene. Nel senso... Una cosa molto tranquilla per stare qua a pescare. Stare un po' FK qua a pescare. Certo, è vicino tipo alla cosa più bella che abbiamo fatto finora. Però, vabbè. Dai, è bellino. Cioè, non è bella come struttura. Però almeno c'è una farm. E è bellino come colore. È tipo uno dei blocchi più belli che ci siano. Quindi, dai, va bene. Stiamo un po' qua a pescare. Vediamo se troviamo qualcosa. Anzi, direi che è il caso di andare a fare un po' un recinto per le pecore. Guardate. Da lontano forse stona un po'. Però dai, è bellino. È lì in un angolino. Lì dove c'è la cosa, insomma. Quella collinetta. Dai, no, è bellino. E poi quel colore lì dà un sacco di felicità. Quindi, vabbè. Sentite le spiegazioni. Do i miei fallimenti. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Let's go. Facciamo il recinto per le nostre pecore. Che poi vedremo, insomma, dove posizionarle. Quando faremo la farm di pecore colorate. Però, ecco, intanto, per fare un recintino, diciamo che possiamo farlo anche qua. Cioè, ci serve abbastanza grande. Quindi, forse è il caso anche di levare un po' di terra da qua. Però, forse lo spazio ce l'abbiamo. Cioè, tipo, se lo mettiamo un po' qua... No. No, non abbiamo per niente di spazio. O veramente lo mettiamo qui momentaneamente e poi, boh, lo sistemiamo. Mi pare l'unica. Lo mettiamo qua e poi porteremo via via le pecore. Cioè, per una fence non ce la facciamo. Ci rendiamo conto? Cioè, ora qua metteremo il cancelletto. Questo qua. Qui. Di qua mettiamo la fence e non ci basta. Cioè, no, io non voglio fare un'altra fence solo per questo. Dai, ma che palle, raga. Ma perché ci manca sempre un blocco? E dobbiamo, tipo, craftare il mondo per rifare solo quel blocco. Ah, ecco, sfruttiamo l'occasione per mettere un po' di torce. Che, sì, lì c'è il blocco luminoso, ma se ne mettiamo un po' qua nel mezzo, cioè qua intorno, insomma, diciamo, non guarda. Che poi potremmo quasi qua mettere un altro blocco e farla lunga di due. Visto che a questo punto ci avanzano due cose. Cioè, la facciamo un po' più lunga. Però almeno, ecco, almeno abbiamo più spazio. Quindi rileviamo queste e risistemiamo. E, se Dio vuole, chiudiamo qua. Bene, ora rimane solo da andare a cercare le pecore. Prima nutriamo le nostre mucche e poi cerchiamo le pecore. Bene, andiamo a cercare le pecore. Ce n'è una marrone, ma non so quanto sia il caso di portarla con noi. È meglio avere quelle bianche perché, boh, sì, secondo me è meglio. Lì ce n'è una. Ce ne servirebbe una... Là c'è del carbone, però, supposo. Ah, qua ci sono anche i maiali. E poi, sì, ci servirebbe anche magari un recinto con i maiali, così, per bellezza più che altro. Non tanto per utilità, però ci potrebbe servire. Solo che ancora non l'abbiamo fatta. Qua cosa c'è? Mamma mia, meno male. Sì, meno male sono stato attento. Sì, siamo nella pianura e non ci sono le pecore. Ma ci rendiamo conto? Ci sono i cavalli laggiù, le pecore non ci sono. Oh, eccole, guardate quante sono. Se vengono tutte insieme, mi facilitano anche il lavoro. Venite su... Sono tutte qua. Saranno voi una decina di pecore. Se venite tutte insieme, mi facilitate il lavoro. Andremo piano piano. State al mio passo, ma almeno mi facilitate il lavoro. Ora, indovinello per voi. Trovate l'intruso. Poi un giorno prenderemo anche quei cavalli là. Mi seguono ancora tutte. Perché due si perdono? Perché mezze si perdono? Sarà un lavorone, eh, raga, secondo me. Sarà veramente un lavorone. Però, con calma si fa... Però così no. Cioè, non posso fare due passi e voi già vi perdete. Cioè, non è possibile così. Guardate, sembro una maestra che si porta bambini in giro. La mucca è il bambino speciale. Se riesco a portarle veramente tutte a casa, raga, è veramente un bel chiappo. Cioè, da non averne nemmeno una... A far fatica a trovarle, addirittura, ad averne così tante. Non sarebbe per niente male. Certo, ci stiamo muovendo alla velocità di Internet Explorer, però... Oh, meglio che niente. Tipo quando apri un pacchetto di patatine in classe. Secondo voi, in quante finiscono lì dentro? Indovinate. Sta pure tramontando il sole, bisogna muoverli. Un'ape! Potrei portare un alveare vicino a casa. Che carina che sei. Bellina. Io, raga, me la sto rischiando a portarle di notte. C'è una grande responsabilità, questa. Soprattutto per me. Soprattutto per la mia salute. Non tanto per la loro, ma per la mia. Facciamo così. Io le lascio qua, che sono circondato da mob. Se sono tutte qua, non dovrebbero despaunare. Cioè, adesso corro a casa, dormo e torno qua a prenderle. Non dovrebbe succedere nulla, vero? Ora, raga, vi dirò. Potremmo anche farla in questi giorni. Cioè, insomma, a breve la farma di pecore colorate. Non che ci serva tantissimo per ora, però... Sempre meglio averla. Intanto almeno la facciamo, fermiamo i blocchi. Almeno quando ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo, insomma. Poi non dobbiamo stare a... A perdere troppo tempo, perché tanto ce l'abbiamo a quel punto. Però, chi lo sa. Intanto andiamo a prendere le pecore. Le ho lasciate lì, sperando non siano despaunate, non siano scappate. Speriamo. No, ok, sono ancora tutte lì. E vi dirò di più, c'è anche quella di prima. Quindi, buonissimo. Ora, non ci resta altro che portarle tutte. Te intanto vieni qua, vieni insieme alle altre. Dai, muoviti, raga. Madonna, si incantano. Non sono più obbedienti come una volta. Vieni, dai, ce la puoi fare. Ok, credo di averle recuperate tu. Ci siamo quasi, raga. Dai, vedo laggiù l'obiettivo. Ora ci seguirà anche questa pecora marrone, ma vabbè poco. Ora gli intrusi sono due. Uno, diciamo, ha un mezzo intruso. Pensate a avere tutte queste pecore nel recinto subito. Cioè, abbiamo risparmiato un sacco di tempo. Cioè, no, in realtà il tempo che ci abbiamo messo per portarle fin qua, e ancora non siamo arrivati, è maggiore di quanto ci avremmo messo probabilmente a farle accoppiare e raggiungere di nuovo questa cifra. Però, vabbè, questi sono dettagli. Piano piano ce la stiamo facendo. Questo è l'importante. Poi non potremo dire di non avere pazienza. Allora, mucca, dopo vedremo anche cosa fare di te. Intanto non guardare in là, che potresti vedere una cosa che non ti piace. Ora, entrate qua dentro. Forza, veloci, entrate. E si bloccano sul cancello. Ma sarete stupide. Una per volta. Forza non è tanto. Va bene, vi spiego. Bene, ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa farm di pesca. Scrivetemi se c'è qualche consiglio per migliorare, cioè se avete qualche consiglio per migliorarla o se proprio deve funzionare così, cioè se ho sbagliato qualcosa o no. Lo so, la costruzione lascio un po' a desiderare, ma dettagli. Dobbiamo iniziare a fare anche il nostro recinto con le pecore, quindi ottimo. Non so cosa faremo nel prossimo episodio. Se andremo nel nether, se faremo qualcos'altro. Non lo so ancora, sinceramente. Ci penserò un pochino. In ogni caso vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Seguitemi sia su Instagram che su TikTok, trovate sempre tutte e due in descrizione oppure qua nella schermata. E inoltre, se vi siete persi gli altri episodi di questa serie, andate a vedere la playlist che trovate sempre qua sotto in descrizione o qua nella inautodest. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.